Ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo con un tubo di macchinine queste macchinine sono di metallo con alcune parti di plastica e queste macchinine sono 10, iniziamo a scartare Allora, la prima macchinina è una rossa, come vedete le ruote sono di plastica Seconda, ovviamente non so come si chiama perché non so neanche se esistono La seconda deve essere, questa è di metallo con le ruote di plastica sempre e questa parte sotto con i tubi e tutta l'attrazione per andare in giro è di plastica Poi c'è un'altra macchinina della polizia ed è anche questa di metallo Non so se questa macchinina, cioè queste macchinine così con questa cosa dietro siano come quelle là, indistruttibili, tipo a tetto, un po' strane, avete capito quali? Non so se sono quelle Poi ho usato queste da gara Poi abbiamo già scartate tre Poi c'è questa Benissima Ed è anche questa di metallo C'è questa Sono già a No, cinque Tre più due, cinque C'è un'altra verde Bellissima Sei Ce n'è anche una rossa Mì, è bella eh Guardate ragazzi Bellissima Sette Questa col tetto aperto Bellissima Mì, questa quanto è bella ragazzi Mettete like in tutta la macchinina Mettete like Iscrivetevi al canale Se vi piacciono Questa anche è abbastanza bella Come vi ho detto Mettete like Iscrivetevi al canale E ci vediamo al prossimo video Ciao ciao